Una mattina non sospetta del 25 aprile con una bella gita in programma la quale l'ho portata anche a compimento mi sono svegliato e semplicemente scoprivo che il titolo meta su cui sono investito mi definirei ad oggi un felicissimo azionista andava a registrare un meno 15% e mi ricordava come poche ore prima fosse uscita la trimestrale e quindi mi sono detto bello chissà quali dati sconfortanti saranno usciti ciao ragazzi e ben ritrovati qui sul mio canale quindi voglio andarvi a condividere se anch'io ho profittato del momento e dopo tanto correre ho scaricato le azioni di meta, ho preso profitto e fine della storia bisogna anche a un certo punto imparare a farlo vedere se ci sono delle notizie che possono farci cambiare un po' idea insomma dei convincimenti quindi dobbiamo fare anche questo lavoro come stock picker io andavo a comprare queste azioni qui non troppo lontano dai minimi attorno a 120-130 andavo a caricare insomma in maniera pesante e quindi vedendo questa situazione laddove tutto fosse assai peggiorato beh io potrei anche scaricare qua attorno ai 430 dollari d'altronde nessun investitore a meno che fosse davvero dannatamente fortunato potrebbe cavalcare tutta la corsa tutto un epico movimento rialzista dai minimi ai massimi l'importante è prendere parte del movimento e allora andiamoci qui a leggere i fondamentali anche perché devo dirvi la verità io sono molto attratto dai fondamentali per questa società e quindi non mi interessa tanto fare una speculazione di breve termine vi dico anche che questo ritracciamento è fisiologico è normale non sta accadendo niente vi lo so per qualcuno potrebbe sembrare assurdo questa mia asserzione questa mia affermazione vi ho qui messo il ritracciamento di Fibonacci dallo swing low allo swing high quindi ho cavalcato tutto quanto questo movimento rally veramente rialzista, epico e qual è il ritracciamento minimo? il minimo sindacale lo andrei a definire dal punto di vista tecnico beh, quantomeno proprio il minimo che dobbiamo incontrare da questi massimi il livello dello 0.23 ma proprio il ritracciamento basilare il mercato respira per fortuna è arrivato questo ritracciamento ma non se ne poteva più mi sentivo quasi a disagio non è sano quindi è normalissimo e vi dirò che mi sarebbe normale anche vederlo attorno al livello dello 0.38 guardate, ora stiamo qui sul time frame settimanale per quanto riguarda l'RSI ragazzi ci troviamo in ipercomprato veramente stiamo qui attorno dei livelli di 90 non era sano e non era sostenibile stiamo andando a risolvere una situazione eccezionale di ipercomprato quindi per me non sta accadendo nulla soltanto l'inevitabile all'interno delle normali oscillazioni del mercato e quando è che se ne approfitta il mercato? quando è che gli investitori qui cercano di prendere profitto? quando esce qualche notizia? quando c'è qualche evento? quando c'è un qualcosa che vada a giustificare? c'è la trimestrale di meta? ormai viaggiamo sopra i 500 dollari prendiamo profitto qualunque cosa accada andiamo a cercare l'unico neo che c'è magari e stendiamolo al massimo concentriamoci solo su quello facciamo finta che le buone notizie non ci siano andiamo a scaricare quindi secondo me già così potrebbe essere la situazione ma andiamo a leggerla insieme e inoltre vi ricordo anche che ci sono tanti attori in gioco che necessitano di prendere profitto che devono portare proprio dei numeri percentuali ogni trimestre o ogni anno che devono rendere conto quindi fondi speculativi, hedge fund o addirittura fondi che da contratto non possono detenere delle azioni le quali a un certo punto quindi parlo di un singolo titolo una singola azienda possono raggiungere delle ponderazioni troppo elevate all'interno dei portafogli cioè non tutti quanti i vari fondi ragionano in market cap e quindi sono disposti a cavalcarla fino alla morte anzi molti hanno una gestione attiva e quindi io non ci vedo nemmeno nulla di così sbagliato e strano a un certo punto dopo una corsa del genere prendere profitto andiamo un po' a leggere quelli che sono però i fondamentali revenue più 27% rispetto allo scorso anno ok andiamo a vedere quello che ha spaventato perché poi ho letto c'è un qualcosa che ha spaventato da morire gli investitori oddio l'orrore e il terrore l'aumento dei costi e delle spese più 6% wow e beh d'altronde più 6% di spese ma le revenue sono aumentate del 27% l'income from operations soltanto del 91% anche l'operating margin dal 25% è passato al 38% abbiamo il net income che è aumentato del 117% abbiamo gli EPS che sono aumentati del 114% beh effettivamente questo aumento dei costi e delle spese del 6% mi ha veramente scioccato e penso che venderò per questo le azioni ovviamente ragazzi sto scherzando dopo questa lettura dei risultati sono un investitore ancora più convinto di prima mi aspettavo forse pur aspettandomi qualcosa di positivo mi aspettavo anche qualche numero inferiore tant'è vero che sono state battute le aspettative degli analisti cioè questa società è riuscita a incassare a guadagnare di più rispetto alle stime stesse degli analisti però se sono andati a concentrare gli investitori ci informano sull'aumento dei costi e delle spese sulla guidance quindi ora andiamo a vedere perché poi è tutto quanto connesso quindi ragazzi io rimango investito poi vedremo anche adesso altre ragioni volevo farvi notare il cash che hanno questi signori in portafoglio veramente tantissimo andiamo un po' qui a vedere cash ed equivalente ragazzi oltre 30 miliardi di dollari insomma spionano quasi 33 mila milioni di dollari in cash ci dovranno pur fare qualcosa questi signori siccome è una grande big tech io vi anticipo già che devono operare in ricerca in sviluppo devono cercare di costruire di prevedere di partecipare al futuro della tecnologia del digitale perché il mondo va veloce altrimenti se ci si adegua se ci si adagia sugli allori troppo in fretta questo più che di adegua ragazzi la parola che ricercavo è se ci si adagia no? e poi il mondo ci sorpassa è vero è una società che ha un grandissimo fossato perché oggi rinunciare a meta all'ecosistema meta soprattutto nel mondo occidentale io parlo per coloro che hanno interesse nel promuovere la pubblicità significa quasi stare al di fuori della pubblicità online quella veramente fruttuosa che ti consente di targettizzare nel migliore dei modi possibili o quasi i tuoi clienti quindi è irrinunciabile procediamo andiamo avanti guardate infatti queste mie parole sono supportate da questi dati quindi la spesa media per la pubblicità è aumentata a livello mondiale è normale ed è qui 6% andiamo un po' a vedere o meglio a leggere alcuni commenti alcune dichiarazioni del CFO così capiamo un po' meglio la situazione allora ci dicono che i ricavi totali del secondo trimestre secondo le loro previsioni saranno comprese da 36.5 a 39 miliardi di dollari le nostre linee guida presuppongono che la valuta estera rappresenta un ostacolo pari all'1% vabbè ragazzi sono percentuali veramente misere una società è globale è chiaro bisogna anche fare i conti con le valute estere ma insomma è poco impattante dai prevediamo che le spese totali per l'anno intero 2024 saranno comprese tra 96 e 99 miliardi di dollari un aggiornamento rispetto alla nostra previsione precedente di 94 96 miliardi di dollari a causa di maggiori costi infrastrutturali e legali quindi stiamo parlando di un range che poi rimane quasi identico la il range massima la parte massima del range è rimasta la stessa 99 miliardi di dollari ci hanno aumentato la minima quindi da 94 andiamo a 96 a me non sembra nulla di così clatante rispetto alla propulsione che hanno nella crescita hanno aumentato tantissimo i margini aumentano quindi tantissimo le entrate se aumenti anche i margini è chiaro che aumenti anche gli utili per gli aliti di Dubs continuiamo a prevedere che le perdite operative aumenteranno in modo significativo anno dopo anno a causa dei nostri continui sforzi di sviluppo dei prodotti e dei nostri investimenti per ampliare ulteriormente il nostro ecosistema prevediamo che le nostre spese in conto capitale per l'anno intero 2024 saranno nell'ordine quindi parliamo del CAPEX ragazzi di 35-40 miliardi in aumento rispetto al nostro range precedente di 30-37 miliardi ecco quindi sicuramente qui è più significativo le spese in conto capitale sono più significative perché da 30-37 andiamo a 35-40 quindi magari ci saranno quei 4-5 miliardi in più mentre continuiamo ad accelerare i nostri investimenti infrastrutturali per supportare la nostra tabella di marcia sull'intelligenza artificiale quindi stanno facendo degli sforzi sull'intelligenza artificiale incredibili sono davvero ambiziosi se ci informiamo se leggiamo loro stanno cercando di offrire uno dei prodotti migliori in assoluto ma proprio al pubblico a tutti quanti noi per quanto riguarda il classico strumento di intelligenza artificiale penso che molti di voi comunque utilizzino questi strumenti quindi una società come meta deve assolutamente disporre della propria intelligenza artificiale perché altrimenti si rimane nel decennio passato bisogna per forza fargli questi sforzi inoltre sappiamo come abbiano già iniziato da un pezzo reality labs come abbiano insomma cercato di costruire un qualcosa che vada al di là ragazzi di quelle che sono le loro entrate attuali allora cerchiamo di vedere quelle che sono le valutazioni rischi quindi ora mi spiego ciò che non piace ad alcuni investitori è ciò che io invece pretendo da meta ovvero io lo so che ha un grandissimo passato questa azienda ha un ecosistema meraviglioso se vuoi targettizzare in occidente le persone fare pubblicità online che funzioni è molto utile andare su instagram è molto utile andare su facebook abbiamo anche whatsapp in questo momento che ancora non monetizza non è monetizzato non è sfruttato per guadagnare tanti soldi eppure whatsapp è strautilizzato come social io penso che probabilmente anche tu che mi stai ascoltando hai un uso quotidiano maggiore di whatsapp rispetto ad esempio a facebook quindi secondo me prima o poi lo zio zac riuscirà a monetizzarlo a spremerlo bene quindi ci sono miliardi di persone che ogni giorno si messaggiano dalla mattina alla sera ed è un pubblico potenziale un'utenza potenziale incredibile prima o poi ci si arriverà d'altronde su wechat già lo si fa da tanti anni l'equivalente di whatsapp in cina quindi prima o poi secondo me qualcosa accadrà quindi ancora non è sfruttato al massimo allora qui abbiamo fossato abbiamo un vantaggio enorme in questo ecosistema però il punto di forza secondo me è anche il potenziale punto di debolezza qual è ad oggi il rischio di meta non è tanto il fatto che i loro investimenti magari non producano risultati perché questa azienda continua ovviamente a avere tantissimi guadagni è chiaro ci li va a ridurre nel qual caso buttasse parte dei suoi miliardi e gli azionisti non sono contenti a volte secondo me anzi troppo spesso guardano soltanto al domani ma letteralmente non al dopodomani alla prossima trimestrale non hanno una prospettiva di meglio lungo termine allora non sei un vero azionista stai lì a sperare a speculare nel brevissimo termine ma non ti senti appartenente a questa azienda di farne parte di cercare di avere una visione di lungo termine perché innanzitutto se noi non ci volviamo e non ci difendiamo prima o poi i nemici riusciranno a passare questo fossato non possiamo far finta che il mondo non sia sempre più digitalizzato che un giorno non arriverà e si affermerà sempre di più la realtà virtuale che l'intelligenza artificiale o quella che noi ad oggi chiamiamo così riteniamo tale non sia sempre più preponderante nelle nostre vite nella tecnologia nel lavoro nella quotidianità perché è così e bisogna essere protagonisti come si può essere protagonisti soltanto investendo miliardi perché se no uno rimarrà sempre e unicamente e solamente legato alle logiche degli incassi pubblicitari e questo è rischioso innanzitutto perché prima o poi potrebbe arrivare qualche attore più bravo di noi ad oggi sembra impossibile ma non ci sono aziende eterne e c'era sempre quindi una concorrenza potenziale e poi ci sono delle annate o dei periodi di crisi in cui il mercato pubblicitario non va così bene quindi per quanto io so dominante potrà andare a soffrire quindi riuscire ad affermarsi come grande big tech anche nel resto dell'ambito digitale di intelligenza artificiale eccetera eccetera magari integrare tutti quanti questi sistemi secondo me è un qualcosa che si deve fare sarebbe uno spreco che ci facciamo poi con tutti quanti questi miliardi vogliamo solo creare un mega dividendo vogliamo semplicemente comprarci sempre le nostre azioni sì è bellissimo il buyback ma come si fa a cavalcare il futuro io credo che parte di questi utili tutti quanti questi miliardi su cui si è seduti sopra vadano investiti e sono contento sinceramente che stiano facendo gli sforzi nell'ambito dell'intelligenza artificiale per quanto riguarda reality labs per quanto riguarda il metaverso cose simili ragazzi io non so mai se riusciranno a diventare remunerativi e poi purtroppo non tutte quante le aziende riusciranno a indovinare ogni singola loro mossa però è chiaro che si devono dar da fare quindi io non sono così negativo è chiaro che rimango in contatto e voglio anche capire che poi a un certo punto i soldi non vengano buttati via ma ad oggi veramente sono contento di quello di quello che leggo ecco andiamo un po' sì qui meta AI vabbè vi ho già fatto questo discorso prima di salutarci andiamo a vedere le valutazioni allora io ho messo un NTM un Next 12 Month ragazzi per quanto riguarda il rapporto PE ora qui ci dice circa 23 23 rispetto a tante aziende big del settore comunque Information Technology o di società più simili che ci vengono in mente dei giganti più simili che ci vengono in mente rispetto a Meta o le magnifiche 7 o un indice come Nasdaq lo stesso S&P 500 sappiamo come viaggino a dei multipli assai superiori quindi in questo momento dopo il tracciamento avere circa 23 come multiplo a me non sembra così malaccio soprattutto a fronte di questo futuro probabile qui ovvero di una continuazione dell'aumento del fatturato davvero notevole in termini percentuali di un anno in anno almeno per i prossimi 4-5 anni poi in quale il mondo sarà un po' cambiato ci aggiorneremo vedremo come sarà ma questa è la proiezione futura è quello che ci si può attendere quindi una società che continua inesorabilmente a crescere qui ho messo con le colonne grigie anche il free cash flow cioè questo poi si va ovviamente a riflettere nei flussi di cassa si va a riflettere negli utili ragazzi non sono solo le entrate a parte di queste entrate poi sono migliardi che rimangono alla società e lo abbiamo visto su quale tesoretto riescono ad essere seduti al momento andiamo un po' a vedere anche gli EPS quindi potremmo chiudere nel 2024 a 20 e nel 2028 potremmo già aver superato i 30 sapete che significa che fra 4 anni e mezzo chiudiamo l'esercizio fiscale dell'anno quindi quello contabile e magari il PE se i prezzi sono quelli attuali dovrebbe essere di 15 io non credo che 15 sia il PE più giusto per questa azienda che sia più alto quindi rispetto all'attuale quota azioni io ritengo che fra qualche anno debbano essere più alte se comunque le premesse di meta verranno mantenute e quindi abbia addirittura delle potenzialità pari o superiori al mercato più ampio di fare bene pertanto io rimango azionista di meta anche perché se adesso andassi a vendere ok un bellissimo profitto innanzitutto qui il capital gain per me sarebbe davvero impattante ragazzi perché 26% dei tasse e il capital gain è una fetta enorme in questo caso specifico rispetto al controvalore totale che ho in portafoglio dell'azienda quindi penso almeno un 20% quasi più o meno una roba simile dovrei pagarle in tasse poi sì potrei cercarmi delle situazioni tramite un conto indichiarativo per scaricare qualcosa in perdita magari chiudo in perdita poi da ricompro se mi serve la voglio tenere quindi potrei trovare qualche scamotage fiscale per non pagare le tasse ma c'è questo problema e poi quando rientro quando rientro facciamo market timing su meta io l'ho sposata per i suoi fondamentali quando l'andai a comprare quindi me la tengo anche perché poi non saprei quando rientrare mi rimango fermo perché secondo me ve lo ripeto è soltanto la mia opinione non vi sto dando un consiglio finanziario ragazzi non vi sto dicendo quello che dovete fare già è difficile per me capire quello che devo fare a volte per carità non vi sto a dire a voi quello che dovete combinare sui mercati quindi mi raccomando ragionate con la vostra testa ma se la prospettiva è quella di poter fare come o meglio del mercato io sicuramente me la tengo me la tengo e andrò a scaricare il giorno in cui vedrò numeri contrari a quelli che vi ho mostrato all'inizio cioè se io vedo che questa qui è la crescita della società in cui ho investito se sono questi numeri io me la tengo stretta se anche la guida comunque prevede per il futuro anche le stime degli analisti prevedono una continuazione della crescita e a me poco importa se la stessa potrebbe essere un minimo depoperata dall'aumento delle spese se comunque serve alla società per aumentare quello che è il suo ecosistema che sta cercando di sviluppare di intelligenza artificiale di reality labs e simile anzi io voglio che l'azienda insista poi se riuscirà ad essere profittevole o meno lo vedremo ma non voglio un'azienda che rimanga con le mani in mano e pensa di pensi di rimanere così dominante in eterno di non dover fare nulla nessuna innovazione nessuna spesa tanto al dominio della pubblicità no voglio che facciano quello che stiano facendo poi riuscirci ad un altro discorso questo è ovvio allora ragazzi io vi saluto vi ho spiegato le mie ragioni voi magari ditemi le vostre sia laddove vogliate fare qualsiasi cosa su questa società Gianluca guarda io ho venduto io mi aspetto un ulteriore crollo io ho comprato cioè l'importante più che dire le proprie ragioni e proprio condividere la logica e quindi dare delle informazioni l'importante è che ci sia logica ci sono delle opinioni o delle critiche costruttive perché queste sono davvero premianti a volte mi ispirano anche per produrre dei contenuti e per fare delle riflessioni quindi veramente è importante per tutta quanta la community io vi ringrazio per essere fino a qui vi auguro il meglio nella vita negli investimenti vi do appuntamento a prestissimo ciao